Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Marge e siamo qui tornati con My Hero Once Justice. Allora, nello scorso episodio avevamo usato Todoroki e oggi torneremo con Midoriya, penso. Io userei quello che so usare meglio, quindi Midoriya. Buongiorno, ok, però va bene, va bene. Ok, va arriviamo oltre, voglio usare il Plus Ultra X, eccolo. Perché? Ho usato quello normale! No, io ho fatto tutti i tasti. Vabbè, niente non lo potremo fare. Vai, per uso Ultra, almeno là, almeno là, insomma. Ce l'ho giocato abbastanza male, vuol fare Plus Ultra X, però... Va bene. Va bene. Va bene. E' la cosa? Vabbè... 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 Ora, ora, va bene. Voi, le piedi, fu. Allora... Ok, e finalmente abbiamo finito questo arco, se possa anche vorrlo così. Credo inizio un nuovo arco con questo video, vediamo. Grazie per la visione. Questi sono i what if di cui vi parlavo, sono delle cose che non succedono veramente nella serie, ma sono create diciamo dalle creature del gioco, quindi andiamo a farlo. Attenzione. Ok, non ho mai usato una missione esattamente come funziona, però gli ho tirato un off-bust, ma che in faccia. Ok, come non funziona? Ok, mi sono imparato. Ok. Ok. Eh, vabbè, oh. Volta, però, non mi schivare a caso. Oh, vai. Oh, e finalmente una bella mazzata in testa abbiamo vinto. Attenzione, abbiamo anche il bonus. Oh, SSB? O A o S? Io penso S perché... Beh. E va bene, anche questa è andata. Adesso andiamo a fare la 12. Siamo... Giro contro Kirishima e Bakugo. Vai, vai. Ok, devo... Eccolo, sapevo che funziona. Vai, che dice un po' che ce la fai. Ce la possiamo fare solo. Oh, c'è un tiro di estate. Ah, vicenda. Oh, oh, oh. E continuiamo così fino alla fine. Hai visto del suo attacco fisico? Devo prenderla perché siamo molto vicini? Ok, così. Ma il P? Ma quindi perché ti ho scelto? Guardalo, guardalo. 5 secondi. Fate più 5 secondi. Quanto è forte. Vabbè. Abbiamo vinto. Così. Questa è una S. Questa è una S. Abbiamo vinta così. E dai, e dai. E non è una S quella. E non è una S quella. E non è una S quella. E non è una S. Lo sapevo. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Patton, ready, flash. Ma cosa ho schivato? E vabbè. Partiamo strada. Eccola. Eccola. Buongiorno. Eccolo. Secondo me, le prendiamo. Attenzione Bakugo. L'ultimo colpo. Un bah. Uh. Ultimo colpo. Pugnetto così. Pugnetto così. Mi stavo spaventando, eh. Se ne si tirate dalla raffica di 30 pugni, no. Se ne si perso così. Vabbè. Io li do. Stranamente. B. Te lo dico io. A. Forse A. Forse A. Vabbè dai. Per essere il primo tentativo. Non sapendo usare per niente Bakugo. Secondo me ci sta. Ci sta. Ok. Ora non possiamo saltare alla fine di questa missione. Che è il continuo di questa qui. Come facciamo. Ma dobbiamo andare a utilizzare Todorod. Come facciamo. Vai vai vai. Clash. Aspetta che sia vicino. Ma però non è stato una stupida. Non dovevo morire. L'ho preso. L'ho preso. Oh. 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 E vabbè. Cosa sta succedendo. Non colpirlo. Colpirlo. Oh. E vabbè. Cosa sta succedendo. Sto spammando lo stesso testo a 5 minuti. Dai. Un colpo. Mezzo colpo. Mezzo. Si. E' finita. E' finita. Plus ultra. E vai così. E bè. E bè. E bè. Sass. E bè. E bè. Dai. Dai. E se non me la davi stess. Se non me la davi. Chi me la dava? Sass. Usere. Lui. Che dico. Farsurina. Eccola. Sve. E' un copy in colla. D'altro. Ma qua. Ma guarda lì. Come va giù. Ok. Mi rimangio tutto. Todoroki è troppo forte. Todoroki è troppo forte. Guarda qua. Guarda lì. No 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 no. Para para. Prego para. Ti prego. Ho premuto il tasto eh. Parato perfettamente. Vieni tu. Sul trex è solo a terra. Uno. Due. E b. No. Non l'ho usata. 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 Scusate. Finiamo la partita. Non capisco. Vabbè Rai. Abbiamo sbagliatissima quella. Abbiamo sbagliatissima. Però. Vabbè. Guarda lì. I punteggi. Mi aspettavo un SSS. Vabbè dai. è un S lo stesso, è un S lo stesso, è un S lo stesso, è un buono, scrivi chi vuole il buono grazie, possiamo usare l'idea ce la possiamo fare? ce la possiamo fare vai se mi ricordo come si usa va bene va bene, lanciamo il mic se lo prendo, il micr'ho preso mancato ok, continuiamo a lanciarlo così e ci dobbiamo farcela lanciamo il mic ti devo dire ma qua mi ha schiacciato dentro di me scrivi no, ho preso oddio, no no, che una S ci starebbe tutta eh grazie questo episodio mi ha fatto un casino allora, mi ho preso tutte S vabbè, a parte i video che ho preso tutte S vabbè, non è quella di Babu, Babu è impizzabile però quindi ragazzi, questo episodio è terminato se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao